Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha rivolto un appello a governo e albergatori dopo la decisione da parte di Federlegno Arredo di rinviare a giugno il Salone del Mobile. Nel video girato il sindaco ha commentato la decisione di posticipare la Kermes milanese per via dell'emergenza coronavirus. È importante che, come sempre mi piace dire, ognuno faccia la sua parte, quindi chiedo al governo di intervenire e di dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia, faccio un appello particolare agli albergatori. Ecco, quest'anno dobbiamo avere molta attenzione nel determinare i prezzi delle camere perché sarà un anno straordinario. Il Salone lo si sarebbe dovuto aprire il 21 aprile, abbiamo deciso di rinviarlo di un paio di mesi, quindi c'è una data di nuova apertura, è il 16 giugno. Io sto chiedendo agli amici del settore dell'arredamento e del Salone del Mobile uno sforzo perché in questo momento Milano non può fermarsi. Dobbiamo oggettivamente lavorare affinché questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. Milano deve andare avanti, quindi io li ringrazio per questa prova di fiducia perché non è facile oggi avere la volontà di chiamare da tutto il mondo visitatori, di convincere gli operatori, ma credo che questa sia la decisione giusta. Grazie. 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 Grazie.